Buongiorno ancora a tutti, siamo alla seconda parte, ultima parte delle isole di Venezia, sebbene avete capito tutti che ci vorrebbero almeno dieci parti, quindi nel 638 per sfuggire la persecuzione dei Longobardi, nasce Turicellum, eccola qua, o Torcellum, il nome dell'isola lo prende dalla porta romana delle mura di Torcello, che non è quella lì, potrebbe essere uguale, ma questa è la porta leona della nostra Verona, com'era, vedete, e così anche i portoni borsari, eccolo qui, siamo agli albori della Repubblica di Venezia, Venezia nasce adulta, dice la Elena Bassi, però, vedete, devono in pratica sopravvivere all'interno di questa laguna, vedete, abbiamo parlato del sale e altri lavori, e quindi nasce la Basilica di Torcello nel 639 d.C., vedete, e nasce in questa maniera, nasce attraverso la tradizione locale, bisogna vedere l'ambiente di costruzione, sapete benissimo che sotto la città di Venezia ci sono 500 milioni di pali, che attraverso un processo, quei pali lì oggi sono colonne, perché non essendo a contatto con la marea, perché la marea è a contatto con la pietra d'Istria o con altre pietre, quelli 500 milioni di colonne, in pratica, di pali, sono ancora intatti. Vediamo quindi il luogo di provenienza, giocorà tutti questi aspetti di architettura, e poi l'architettura paleocristiana, e poi l'architettura romana, eccetera. Vedete, importante, allora vediamo, tradizione locale, ambiente e luogo di provenienza. E questa Basilica, vediamo, questa Basilica l'ha voluta il Vescovo Orso Orseolo, non il Vescovo Orso Orseolo, ma il Doge. Vedete, e eccolo qui, il Battistero, abbiamo la nascita, questi tre luoghi, poi abbiamo la vita, è la Basilica, e la morte è la Chiesa di Santa Fosca, perché la Chiesa di Santa Fosca, che è dell'undicesimo secolo, quindi viene dopo, è un martirium, dove veniva contenuto il corpo del santo, e quindi qui abbiamo il corpo di Santa Fosca, che mi sembra sia una santa che viene dalla Libia. Guardate com'era Torcello, dai 30.000 ai 60.000 abitanti, tanti storici dicono 30.000, qualcuno in più, il fatto è che era veramente abitata, vediamo quante chiese. La ragione per cui Torcello sparisce, diciamo, è proprio perché, anche perché è una questione proprio geografica della laguna, ma in quanto il luogo diventa insalubre, vedete, e soprattutto passano a Venezia, arrivo alto, abbiamo, se voi andate in un luogo stupendo di Venezia, il Campiero del Mer, ci sono le altinelle che sono partite da Altino, passate per Torcello e adoperate come costruzione al Campiero del Mer. Ecco l'interno di questa meravigliosa chiesa, eccola qui, vedete, sulla sinistra, vediamo il presbiterio, ma vediamo anche che c'è la cripta. Quindi, eccolo qui, siamo nel mosaico, nell'opus Tesselatum, in cui vedete, vediamo il presbiterio, e per gradi si sedevano i diaconi, su diaconi, gli acolliti, i lustiari e gli epistolari. Vediamo questo meraviglioso mosaico e del VII secolo abbiamo questo mosaico che è il più antico della laguna, perché è stato restaurato nel XII secolo, ma i mosaici, oltre i 5.000 mosaici della Basilica di San Marco partono dall'XI secolo e arrivano poi attraverso secoli, fino al XVII secolo, che cambia l'arte musiva. Vedete, eccolo qui, questo, nella controfacciata abbiamo il giudizio universale, guardate che meraviglia. Eccolo qui, vedete, e qui vediamo Adamo ed Eva che preparano il trono per poter giudicare la gente. Eccolo qui, e quindi si suona per la risurrezione degli abitanti della terra e si suona anche per la risurrezione degli abitanti del mare, perché in quel luogo lì molta gente si annegava. E vediamo l'angelo del bene con la bilancia e i diavoli che cercano di portare il peso della bilancia dal loro lato. Noi dobbiamo pensare a una cosa molto importante, che queste chiese servivano da catechismo per la gente che andava all'interno. qui abbiamo i vescovi eccetera e anche qui abbiamo l'inferno e qui il ritorno al limbo di Gesù Cristo e qui vediamo Abramo che ha le anime dei buoni, la Madonna, vediamo il buon ladrone, la porta del paradiso dove abbiamo un cherubino davanti la porta e poi un angelo e San Pietro con le chiavi del paradiso e qui siamo all'inferno guardate i lussuriosi i golosi gli iracondi gli invidiosi gli avari e gli acidiosi che è un peccato un'accidia che non esiste più andiamo avanti Santa Fosca abbiamo detto e guardate che meraviglia pensate che il portico gira su tre lati unico esempio in Italia vedete l'architettura bisantina con l'arco a tutto centro e se l'architettura di Santa Maria Assunta vediamo la navata che richiama le basiliche romane l'architettura di Santa Fosca è a croce greca eccola qui guardate che meraviglia nel silenzio di Torcello questo è l'interno di Santa Fosca e però noi parliamo di mosaici parliamo di tante cose ma è bello parlare anche di cose un po' più recenti ma anche di grandi persone che ci hanno preparato l'Italia hanno costruito l'Italia come mio nonno come il nonno di tutti come i nostri genitori e questo signore Giuseppe Cipriani che è un veronese nato a Verona nel 1900 e muore a Venezia nel 1980 e questo è il suo erede il grande signore Arrigo Cipriani e vediamo invece sulla sinistra il babbo di Arrigo Cipriani è famoso anche e soprattutto come imprenditore ma da dove prende il carpaccio questa carne che non è che è cruda prende da un dipinto guardate che Giuseppe Cipriani è una persona molto colta molto colta tanto era colta tanto era modesta tanto era modesta e lui prende proprio da questo dipinto di Vittore Carpaccio e il Bellini questa bibita nel libro che io ho e che è bellissimo purtroppo non si può più avere è introvabile di Cipriani dice che il Bellini la tinta l'ha preso da un da un santo e questa è una particolarità mia ritengo che l'abbia preso dal San Girolamo della pala di San Zaccaria di Giovanni Bellini andiamo avanti eccolo qui nel 1928 lui arriva va a Torcello così era Torcello lui lavorava come cameriera ancora al Monaco e nel 1938 per 32 mila lire compra questo luogo proprio disabitato vedete e il primo gennaio del 1940 Lidia Borrelli è il suo primo cliente ed era la moglie del conte Vittorio Cini vedete e pensate Hemingway ha passato tanto tempo prima di prendere il Nobel infatti Cipriani sorrideva sempre dice guarda che il merito è nostro se hai preso il Nobel perché a Venezia hai trovato una serena serenità che ti serviva poi Cipriani dice che si richiudeva in camera con sei bottiglie di amarone vedete e la mattina erano vuote signori io dico come dice il nostro Giuseppe Cipriani guardate grande amicizia tra i due e poi lì mi sembra che ci sia anche un film fuori fuori adesso scrive il libro di là dal fiume e tra gli alberi c'erano ore in cui locale si riempiva di gente conosciuta con la stessa regolarità incalzante della marea quando giunge a Mont-Saint-Michel lo scrive all'interno di questo meraviglioso libro che vi consiglio di là dal fiume e tra gli alberi eccolo qui siamo a Cana Torcello e tiene a precisare Cipriani che tutti quei bicchieri vuoti non sono suoi sono di Ernest Hemingway e famosissimo arriva anche la regina d'Inghilterra eccola qui la quale manda una lettera di ringraziamento al nostro Giuseppe Cipriani e arriva anche la regina madre e più volte Lady Diana ha fatto visita alla locanda Cipriani di Torcello e anche il nostro meraviglioso Einaudi assieme alla moglie è andato due persone eccezionali soprattutto si sono dati da fare nel sociale e Einaudi e Signora erano vicinissimi a Don Carlo Gnocchi e ad altri e ad altri persone eccezionali come Don Carlo Gnocchi andiamo avanti e siamo a Burano guardate i colori dicono che i colori così servono perché siccome i pescatori rimanemono via per tanto tempo con la nebbia tornavano e attraverso il colore attraverso il colore ritrovavano la casa magari se qualcuno era dal tonico si trovava in casa di qualcun altro andiamo avanti perché a San Martino c'è questa bellissima opera di Giovanni Battista Tiepolo di un giovane Tiepolo qui aveva 28 anni è ancora quel Tiepolo che diventerà quell'artista che noi conosciamo e lui per baco guarda soprattutto l'opera della scuola grande di San Rocco la crocifissione di Jacopo Orubusti detto il Tintoretto e poi è famosa per questa meravigliosa scuola queste scuole chiuse dai francesi creando disoccupazione guardate che poi saranno riaperte più tardi vedete eccolo qui guardate queste meravigliose ragazze di Burano con quella bambina che fa quel sorriso lì e ha una storia la prima è Morosina Morosini che è la moglie di Marino Grimani che crea queste scuole che dà molta importanza al merletto eccolo qui perché signori guardate il merletto era molto importante qui se la sottoveste richiama appunto Burano perché siamo in una città sull'acqua e senza acqua e naturalmente era molto difficile lavare i panni ma naturalmente le signore non davano in piazza San Marco con la veste un po' sporca doveva essere pulitissima ecco la ragione per cui questi imprese artigianali avevano un grande riscontro vedete ciò dice anche del veronese la Bella Nani che questa Bella Nani è una Giustiniana e aveva sposato Marco Antonio Barbaro ed ecco la bellissima signora che noi vediamo in veste un po' casalinga a Villa Barbaro a Maser andiamo avanti e poi la Bianca Cappello vedete e Francesco la moglie del nostro presidente del consiglio Draghi è erede di questa famiglia soprattutto di Bianca Cappello perché lei è una Cappello andiamo avanti e poi Caterina Medici e Colbert porta a Parigi tanti lavoratori di Burano e quando viene incoronato il re eccolo qui il nostro Luigi XIV con il pizzo di Burano e Jacqueline Kennedy quando si sposa ha il velo che viene da Burano e soprattutto anche qui importante la tovaglia la tovaglia era di pizzo di Burano per la semplice lavora che non c'era i tovaglioli e quindi i commensali si pulivano sulla tovaglia che veniva cambiata spesso chi inventa il tovagliolo è stato Leonardo Da Vinci il quale lo mette nella mensa e le risate che si fa perché lo doprono a far tutto tranne che a pulirsi la bocca andiamo avanti siamo a Mazzorbo anche qui signori guardate com'era Mazzorbo com'era Mazzorbo prima dell'avvento dell'occupazione francese e soprattutto i Merlettai devono chiudere con l'arrivo di Napoleone e siamo a Murano eccolo qui Murano e ci sono tre chiese si sono salvate Santa Maria degli Angeli ma soprattutto noi andremo a San Pietro Martire e Santa Maria e Donato guardate che meraviglia che architettura vedete giriamo attorno vediamo eccola qui eccola qui vedete l'architettura proprio parte che i mezzi timpani e timpano richiamano abbiamo le esene davanti ma richiamano le opere di Andrea Palladio chiese San Donato vedete che è stata fondata nel VII secolo e questo all'interno ha il pavimento che è in opus sectile è una delle meraviglie della laguna di Venezia guardate che meraviglia e nel 1291 i vetrai di Murano vengono mandati a Murano perché lavoravano in città diciamo ma soprattutto si dice per paura degli incendi la verità è che era per non far conoscere ai più l'artigianato di Murano erano importantissimi i maestri vetrai di Murano se voi pensate che le nobili veneziane dovevano sposare un nobile ma potevano sposare anche un maestro vetraio ci vorrebbe una lezione mi piacerebbe fare una lezione a chiacchierata solo sul vetro di Murano ma lo farò con l'anno nuovo farò proprio una cosa su Murano e guardate Paolo Cagliari in questo particolare delle nozze di Cana che si trova a Louvre e si trovava all'isola San Giorgio vedete qui due qui due bicchieri chiamiamoli guardate vedete lo troviamo anche in Caravaggio nel bacco ed è un calice in cristallo con stele a balaustro del XVI secolo riguardiamolo lo vediamo nel bacco di Caravaggio vedete e lo vediamo in questo dipinto del Veronese e poi ci sono i piatti vedete è una manifattura veneziana piatto a retorteli della seconda metà del XVI secolo quindi pensate la cura la capacità di questi maestri vetrai vedete poi vediamo un'altra manifattura sulla destra vedete il secchiello per il ghiaccio signori e poi l'annunciazione della galleria dell'Accademia di Venezia vediamo questo portafiori del XVI secolo e addirittura in questo particolare della pala di San Zeno della pala di San Zeno di Andrea Mantegna vediamo questo cesendello in cristallo quest'opera bellissima e in tintoretto vedete in questo dipinto che si trova al Curse Storch Museum di Vienna vediamo questi due in vistere e poi due calici a larga coppa e basso piede in cristallo andiamo avanti ma opere ad arti incredibili signori se noi guardiamo questo calice di vetro blu del 1460 dove viene si richiama penso alla pittura dei Vivarini a porte che i Vivarini erano muranesi erano di Murano Bartolomeo Antonio Dalvise grandi pittori grandi artisti erano di Murano vediamo il quale l'artista che è un artista questo dipinge la fuga in Egitto non dipinge richiama la fuga in Egitto vedete signori qui veramente ci vorrebbe una lezione anche perché qui bisogna studiarlo per mesi perché non posso permettervi di parlarvi a fondo dell'arte di Murano e non la conosco ci sono professori e maestri che la conoscono quindi vi faccio solo un passaggio poi piatto di vetro viola decorato a smalti policromi 1470 e arriviamo alla chiesa di San Pietro Martire e all'interno c'è questa pala bellissima che richiama il doge Agostino Barbarigo davanti che viene presentato da San Marco davanti la Madonna e questa pala è di Giovanni Bellini e abbiamo finito il nostro percorso abbiamo finito anche il percorso delle lezioni online e io non so come ringraziarvi perché sapere di tutte le settimane di organizzare assieme a bravissimi relatori che non faccio il nome di nessuno perché altrimenti dovrei fare il nome di tutti ma tutti bravissimi ma chi si sa hanno dato veramente da fare che ci tenevano a questo nessuno mi ha detto ma ma con grande entusiasmo per poter entrare nelle vostre case ringrazio ringrazio tutto il gruppo accademico ringrazio il sindaco ringrazio particolarmente la persona che mi è stata più vicino in questi mesi che è Alfredo Magnani però non ci sarebbe state queste lezioni soprattutto le mie se non fossi stato ospite ormai da cinque mesi e mezzo di Alessandro Docali il quale mi ha ospitato con grande cortesia con grande gentilezza e siamo diventati anche amici signori vi saluto avrei tante cose da aggiungere ma vi mando un caloroso abbraccio grazie mille